Un grande dono di quelli che danno speranza, come il suono delle campane dopo due mesi di silenzio. Così gli emiliani di Novi di Modena, uno dei comuni più colpiti dal terremoto, hanno vissuto ieri la giornata dell'assunta. Una grande festa con la benedizione della nuova chiesa prefabbricata, la prima in queste zone, realizzata grazie al contributo di tanti ascoltatori di Telepace, un segno per ripartire in una zona dove 47 chiese su 50 sono inagibili. Sì, direi che la prima chiesa in senso assoluto che è stata costruita dopo il terremoto è un segno di speranza anche per tutte le altre comunità parrocchiali. Parecchi sacerdoti sono venuti in questi giorni a vedere appunto come nasceva questa chiesa, restavano meravigliati che appunto in così breve tempo sia stato possibile realizzarla, hanno visto, hanno confrontato, hanno così preso spunto, io credo anche per poter loro stessi e appunto pensare a un edificio simile, una chiesa in legno per l'inverno prossimo. È veramente una festa perché il municipio, la chiesa, le campane, le scuole, gli asini sono le ripartenze, quindi riavere una chiesa, riavere la chiesa, risentire il suono delle campane che ci mancava, è davvero una parte del ricominciare e quindi sono davvero molto contenta di questo dono che Telepace ha fatto al nostro comune perché io mi sento di dire che non è solo un dono fatto alla Curria, alla chiesa, è fatto al comune di Novi di Modena. La chiesa è stata costruita a tempo di record ed è in legno, antisismica, ha visto l'impegno di maestranze instancabili guidate dal geometra Pontani, dall'architetto Neri, da Giuseppe Comencini e da altri che hanno dato la loro preziosa collaborazione. La struttura è stata realizzata con l'amore e il sostegno di tante persone vicine a Telepace, ma ci sono ancora spese da sostenere. Telepace è povera, ha tanti debiti, ha bisogno di tutto e di tutti, oggi però è felice di offrire alla chiesa che è in Carpi, un tempio per la comunità di Novi. Arrivando l'ho vista e ho detto che meraviglia, finalmente rivediamo una chiesa, rivediamo una chiesa e il potere dire che si celebra in una chiesa, anche se prefabbricata, è veramente un motivo di grande gioia e anche di tanta speranza, insomma è un segno, mi sembra molto significativo che venga offerto proprio oggi, nel giorno dell'assunta. La chiesa si inserisce pienamente nel contesto delle opere parrocchiali.